Rieccoci a Primo Sider Palace, appuntamento del mercoledì, gruppo TV7, come dico solito siamo in diretta sulla pagina Facebook, la tematica l'avete già capita anche dal titolo della nostra trasmissione. Prego scomperiti dove rispondi che non ha dato bene nulla di quello che è stato detto. O almeno un paio di considerazioni da fare e dissento quasi totalmente su quello che ho appena sentito e sono queste. Primo, a me questo fatto della gente che non va a votare, che è una sconfitta della politica, francamente non credo che sia così. In fin dei conti quelli che votano determinano poi l'orientamento politico del Paese. Se tu non vuoi venire a votare, pazienza, faremo a meno del tuo voto. Speriamo che sia contrario al mio così ne ho anche un vantaggio. È riduttivo. Scherzo. Sto scherzando. Se partiamo così è molto riduttivo anche di basso spessore oggettivamente. La democrazia perfetta sarebbe se votassi solo io. Così sarebbe chiaro chi governa. Per paradosso. Quindi praticamente tu sostieni Draghi per mille anni perché non lo voterà nessuno, lo votano i partiti e questa è la tua logica. Io sto dicendo che quando si dice che... Non è che siete andati al governo aveva detto che volevate il governo Draghi. Quando dite che Gualtieri è stato votato dal 27% dei romani, omettete di dire che quelli che erano contro Gualtieri hanno preso meno voti, meno del 27%. E allora a un certo punto vince chi prende più voti. E questa è la prima considerazione. La seconda... Se lei vede da questo punto ragione però... mi pare un po' qualunquista, è trito e ritrito, oltretutto il ragionamento sui soldi ai politici. Ma i soldi ai politici, i 12.000 euro... Abbiamo detto che prendono poco i sindaci. I 12.000 euro... Abbiamo detto che prendono poco i sindaci. No, abbiamo detto l'uno e l'altro. Sì, ma che prendono poco. No, no, solo l'altro. No, no. Solo l'altro. Abbiamo anche criticato il fatto che un consigliere regionale prende 13.000 euro. Scopelliti, scopelliti, scopelliti l'ho detto io, ho detto non trovo giusto che i sindaci che hanno una responsabilità superiore ai parlamentari e ai consigli regionali prendano quel poco stipendio che prendono nei confronti di 12-14.000. Non ho detto che i 12-14.000 sono pochi e tanti. Ho detto questo. Un conto è dare uno stipendio ragionevole al sindaco di una città come parte. Ma se uno fa come faceva mio fratello, il sindaco per tutta la vita ha fatto il sindaco a Campocalabro, 3.500 abitanti, che facciamo? Gli diamo 8.000 euro di stipendio? No, proporzione. Ma lui prendeva 600 euro per dire perché lo faceva? Perché evidentemente lo votavano, no? Ecco. Sì, quindi? Allora, voglio dire... Trova giusto i 600 euro? No, non è che non trovo giusto i 600 euro, però dare i soldi al politico, soprattutto al politico nazionale. Serve per un motivo. Serve per renderlo anche indipendente. Perché se no potrebbero fare... Potrebbero fare i congressi in Arabia Saudita. E noi non vogliamo quel tipo di politica. Oltretutto aggiungo che la stragrande maggioranza dei politici che conosco io, faccio un nome, Alessandro Zan, è un politico che dà una quota importante del suo stipendio a partito. Tutti li devono dare. Perché ormai, è vero o no? Tutti li devono dare. Tutti lo devono dare. Quindi alla fine, se gli restano in casca 3.000 euro... Quando va a Roma, Alessandro Zan, diventa più difficile accontentare quando noi giornalisti che siamo a Padova, per poterci parlare, qui ha ragione quello che ha detto Mano, cioè vanno a Roma e prima di venire da te, sai, ci pensano un attimino, prima, quando doveva essere letto inizialmente, veniva tutti i giorni, dopo quando va a Roma, comincia un'altra distanza, un altro comportamento. Mi permetto di sentire. Non è successa una volta che io abbia telefonato a un politico come Zan e che non mi abbia risposto. No, no, ho detto intervenire. Magari perché io so che quelli che ti rispondono sempre con la stessa cosa. Scopelito. Con la stessa frase, non solo è la segreteria telefonica. No, no. Ti confondi Scopelito, è la segreteria telefonica. Però non possiamo neanche negare che un onorevole come Zan. Scusa, scusa. Lui era convinto che gli rispondesse sempre. Mi rispondeva e subito mi chiedeva. Ciao, sono Alessandro, dimmi pure che poi ti richiamo. E lui era convinto che forse Zan era la segreteria telefonica. No, dai, Zan, adesso queste cose non si possono sentire. Ma dai, stai schiacciando. No, ma voglio dire, si può, ma si scherziamo, perché stai scherziamo. Ma siccome noi dopo diamo un esempio anche fuori, non è, non è corretto. Non ho l'esempio a nessuno io. Io non vengo qui per esemplificare nulla. Io sono me stesso, dico quello che voglio, non mi vota nessuno, vivo con i miei soldi. Punto. Se lei vuol dare un esempio, lo dia, ma non stia a parlare dei miei esempi. Lasci perdere i miei esempi, li do nella vita di tutti i giorni. Se lei li vuol dare in tv, li dia. No, credo che lei non abbia capito. No, 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 è lei che si è spiegata male. Si dice così anche tra persone educate. Può essere che io mi sia spiegata male. Eh, brava, brava. Si usa dire così, ma se... Ma nel caso, siccome abbiamo citato un onorevole... Ma l'ha tirato fuori. Lui ho detto per scherzo, ma Zan l'ho trovato a Roma e gli ho augurato tutto in peggio per la sua legge. L'ho trovato a Roma in maggio. E lui mi ha detto, Zan, scusate, interpretate bene, mi ha sposato, nel senso non che io ho sposato Alessandro Zan, ma Alessandro Zan ha sposato me e mia moglie. No, è venuto fuori un casino perché l'esponente dell'Arci sposava uno che non era propriamente dell'Arci o di sinistra. L'ho trovato fuori dalla camera. E ci siamo salutati. Ciao Bruno, ciao Alessandro. Stai ricontento che hanno calendarizzato la tua legge. Sì, ci sa che vanno in via. No, speriamo la bocina. E lui si è messo a dire perché è un amico. Scusi, l'ha scoperto. Le spiego, le spiego. Nel ragionamento che ha fatto su Alessandro Zan era perché nel nostro lavoro Alessandro Zan nei tempi non sospetti l'abbiamo intervistato molte volte. Ora, nel ragionamento che ha fatto Bano, che l'ha semplificato, però nel concetto veritiero, quando vai a Roma c'è qualcuno che, insomma, diventa, si alza di gradino, ovviamente quando lo chiamiamo con le televisioni locale fa un po' più fatica a venire rispetto al nazionale. Anzi, non viene proprio ed è una mancanza di rispetto nei confronti nostri. Questo glielo dico molto. Ma dopo è anche vero, Birona, però bisogna dire le cose che come stanno. Quando una persona assume anche una carattura nazionale, gli impegni aumentano. Sì, però Marcello, onestamente, non è che una persona che prima magari faceva il sindaco di Rubano, come me, e diventa l'eurodeputato che viene chiamato da N televisioni, da N giornali. Però, Doni, però, non deve dire... Cioè, capisci, bisogna anche... Non è bisogno di essere preso da me, ma non è bisogno di essere preso da me. Non è bisogno di essere preso da me, ma non è bisogno di essere preso da me, ma non è Non è bisogno di essere preso da me, ma non è bisogno di essere preso da me. Ho capito, però la proporzione è un po' di... Io ho fatto un riferimento perché l'ha citato, però sono parecchi così e le garantisco per l'esperienza che basta poco per vivere il territorio. L'umiltà non è che sia una cosa rara. Posso dire la roba? Diciamo, finisco, quando si va di là, l'umiltà diventa un po' più complicata, mi creda, senza offendere nessuno. Posso fare un esempio. No, ma posso fare un esempio. È solo che ho completato un ragionamento. Cioè, mettiamo in conto anche con una persona abbia un aumento di impegni che non gli consente. Non ho detto che già sia bravo, sia bravo, non bravo. Non entriamo in questo merito. Non entriamo in questo merito. Posso fare un esempio. Che prima l'avevamo tutti i giorni, non tutti i giorni, spesso. Dopo, quando cambiano, che c'è il momento dove deve intervenire perché è di Padova, perché è nato a Padova, perché la sua storia politica è nata a Padova ed è diventata importante per Padova, un merito a Padova si sta... Ma scusi, l'onorevole Casellati, adesso che la seconda carica dello Stato viene qua spesso... Ma è la bestia. Ma è tutto il rispetto. Visto che vogliamo parlare di istituzioni, la Casellati è la seconda carica dello Stato. Ma sì, ho capito. Zan, con tutto il rispetto per la legge che gli ha ambocciato, francamente è un parlamentare. Cosa è che fa? Si ha avuto il ragionamento, ma non vuoi fare il sogno papale, insomma, non ha una benedizione. Io non mi aspetto perché è l'unica collegata dalla Casellati, dai. Mi garantisco che essendo la seconda carica dello Stato, è tenuta, nella precedente prima qualità, è tenuta molte volte da me. E poi, e poi, e poi, e poi, e poi, lì ovviamente ci vuole il lato burocratico, permesso di fare un parlamentare è un po' diverso, andare dalla seconda carica dello Stato, deve esserci, dovrà esserci un passaggio. Lei ha provato un po' di fatto. Però bisogna un attimo che mettiamo in una domanda complessa. Era il suo ragionamento che ha fatto mano, che quando si va lì, è come un calciatore quando gioca nel Padova e così si può parlare, quando va nel Milano e l'Inter, ha la puse sotto il naso. Diciamo che però ci sono quelli bravi che anche quando ne vanno al Milano e l'Inter, parlano con quelli di Padova. Tutto qui era semplicemente un esempio. No, volevo appunto, chiudo l'esempio perché questo, insomma, non è che voglio fare pubblicità per esempio a una persona che magari mi sono anche scontrato, confrontato, che non è per esempio nel mio partito, però uno per esempio come De Poli, cavolo, non posso dire niente, cioè io lo trovo a Sagra del Paese, dopo lo trovo in Senato, dopo lo trovo a qualsiasi manifestazione possibile e immaginabile, è lontana da me Aniluz, però posso dire che non batte il territorio, mi arriva una lettera al giorno, che non so, ma cosa fare? Roma è incredibile, una lettera, un libro, è sempre... No, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero, è lui e credo che abbia più impegno a Roma, visto l'incarico che ha, più, soprattutto più De Can, credo, se dobbiamo fermarci, ne sono scritto e poi sorvoliamo che è meglio, adesso mi ha fatto perdere anche il filo nella seconda parte, aveva finito il suo concetto, perché mi ha iniziato a lei questa baruffa qui, è sempre io, è sempre lei che inizia le baruffe, comunque chi fa sul sindaco, lui sta parlando del sindaco che ci fa fare, il tuo fratello è il sindaco, ho premesso, Marcello l'ho parlato più volte, Sabrina so che sindaco, per me i sindaci sono degli eroi, bambini, perché fanno un lavoro molto oltre quello che è la loro, cioè la remunerazione, no? Fanno, si occupano di tutti e non solo di chi li ha votati, si occupano di tutti. Mio fratello, vi narro solo in 30 secondi questo, mio fratello aveva il problema dei bambini che non andavano più a scuola, c'è una frazione a Campocalabro che si chiama mattiniti e i bambini andavano nei campi a lavorare con i genitori. Come ha risolto il problema? Comprando il pulmino, lo scuolabus e istituendo la riflessione scolastica. A quel punto tutti i genitori, pur di fargli mangiare un pasto completo al giorno ai bambini, li mandavano tutti a scuola. E ha risolto il problema. Ma non mangiano i bambini ai campi. Bruno, non è che non mangiavano, però un primo, un secondo e un contorno. Perché il partito di contatto ha mandato giù decine di migliaia, centinaia di migliaia di miliardi di lire perché i bambini che hanno preso mangiassero. E mi sa che ha mangiato la gente sbagliata. Guarda che a Monza il 98% dei bambini ha la riflessione scolastica. A Reggio Calabria lo 0,9%. Vado, Cesaro, senti molto. Però Scopeliti, nel senso dell'umiltà delle persone, per esempio Cesaro, qui vengo dalla sua parte, Scopeliti è venuto a trovarmi un paio di mesi fa, un mese fa, e l'Inter era a metà classifica. E ovviamente la mascherina ce l'aveva in tasca. Madonna, sono fatti così. Adesso che per il nuovo partito viene, muove anche la mano, per far vedere che... Sì, e ha perso anche il derby? No, che ieri sera ha vinto, lo fa vedere anche questo. No, ma la madre. Ha fatto questo inciso. Ma lei capisce perché i bambini in Gallagher non mandavano? Senti, è d'accordo? Senti, è d'accordo sulla riduzione dei parlamentari? Sì, sono profondamente d'accordo, però il tema, se lo devo dire fino in fondo, è i costi della politica. Il problema... Parliamo della riduzione dei parlamentari, poi andiamo nei costi. Anche su questo avevo delle perplessità, perché sono sempre a favore che la rappresentanza si allarghi, non si ristrenghi. Se c'è un problema del suo costo, allora riduci il costo e non riduci il numero. E diminuisci il costo, non il numero. Scusate, lasciamolo finire poi. Tanto per capirsi che società si vuole. Se voglio una società che sia più rappresentativa, faccio una certa. Se voglio che sia meno rappresentazione, faccio un'altra. Se la motivazione è il costo, riduco il costo di questo. Non riduco la rappresentanza. E ridurre la rappresentanza è sempre un errore. Non si scappa di qua. E noi confondiamo, lì siccome era collegato al discorso generale, di ridurre il costo della politica, l'abolizione del sostegno ai partiti presenti. Adesso i grillini primi che avevano fatto di questo un cavallo di battaglia e se ne rendono conto che anche la politica è una funzione nobile che va a sua volta e costa. Se mai va visto come controllo il costo. Ma questo è un altro ragionamento. Doni lei è d'accordo? Assolutamente. Non l'abolizione. Perché abbiamo, è un po' come diceva Scopelliti prima, io rimango delle volte sconvolto da questo modo di ragionare che sembra razionale, in realtà è pieno di contraddizioni. Diceva, va a votare chi vuole. Un corno. Primo perché andare a votare intanto è un dovere civico al quale tu ti puoi anche sottrarre. Tant'è che non c'è nessuna sanzione. Non è un obbligo vaccinale. Ecco, non c'è nessuna sanzione, però tu ti puoi sottrarre. Una volta addirittura c'era all'inizio del dopoguerra, come eredità del vecchio regime, c'erano anche pubbliche le liste di chi è andato a votare, è stato abolito proprio per il rispetto. Però c'è un per ogni cosa. Nel senso, prima, la democrazia non è un plebiscito. Non è che tutti devono andare a votare, tanto per essere chiari. Ma la democrazia non è meno un elitaria, un elitario. Il 10%, come all'epoca di Giolitti, che avevano un reddito, le donne naturalmente fuori a priori, decidevano. Non siamo mica per la democrazia d'Italia. Come non sono per una democrazia bulgara e plebiscitaria come nel vecchio comunismo. Ora, quindi, ma sempre i dirigenti politici devono essere equilibrati. E devo dare ai cittadini la possibilità. semmai, quando si va sotto una soglia, e oggi stiamo andando sotto la soglia, quando vai sotto la soglia del 50%, vuol dire che chi si astiene diventa maggioranza. Allora deve portare il problema perché uno si astiene. Don Lillet è contrario? Questo è un problema grave di democrazia vera. Poi vengono tante cose da chiedere. È contrario o d'accordo alla riduzione dei parlamentari? Io non l'avrei votata. E sono d'accordissimo quando Settimo dice che ridurre la rappresentatività è sempre un male. Quindi io non ero... Non è d'accordo? No, non ero d'accordo. Scopiliti? Soluzione o no? Tanto per... Però nel momento in cui lo si osava dire, anche di fronte alla comunità, che c'era contrario alla riduzione, ti mangiavano vivi. E in qua, mi permetto, direttore, di dire che è una corresponsabilità, ce l'ha anche la parte giornalistica che non ha curato una comunicazione fatta bene. Era il dubbio che abbiamo sicuramente delle responsabilità. Tutti. Io non mi tiro dietro come politico. Mi dica rapidamente d'accordo o no? No, io preferivo il referendum costituzionale di Renzi. Ah beh, anche io. 600 deputati e 300 senatori con altri poteri. E un altro... Ma senza quello di dare, per esempio, la fiducia al governo. Vallo, secondo lei? Favorevole alla riduzione dello stipendio, però assolutamente, assolutamente da non toccare la partecipazione popolare, perché la politica è partecipazione. Raffaele? Ma sicuramente non si riducono i costi con questa riforma, l'ha detto benissimo, settimo. E secondo me ridurre la rappresentanza in questa fase è un fatto grave. Quindi, al di là della scelta che ha fatto Fratelli d'Italia, perché è tutta legata anche alla demagogia e al sentiment che si manifesta nei confronti della politica. Ma questo, secondo me, è un errore che pagheremo. Lo pagheranno in primis i parlamentari che in questo momento si affannano per riuscire a penetrare nelle liste. Cesaro, secondo lei? Io non ho una grossa dimestichezza col termine democrazia, però ritengo che se l'obiettivo era quello di ridurre i costi, la Camera costa più di un miliardo di euro all'anno, la riduzione dei parlamentari ha portato a un risparmio, al primo anno, di 54 milioni di euro. Cioè, niente, lo zero, il 5%. È una cosa assurda. Io sono, se volete la democrazia, la fate compiuta, non monca. Cioè, anche nel Veneto, da 60 consiglieri regionali sono passati a 40. È sbagliato. Un consigliere regionale guadagna 10 mila euro al mese. Giusto o sbagliato che sia? Dal mio punto di vista è sbagliato se era affrontato lo stipendio di un sindaco. Riduciamo lo stipendio di un consigliere regionale a 4 mila euro, 5 mila euro, che è quello che prende un dirigente di una multinazionale. Non pensate, l'altro giorno leggevo e finisco su un giornale che faceva il titolo enorme quando è stato eletto Mattarella. Il gesto di Mattarella è stato eroico. Hanno riportato la dichiarazione del barbiere di Mattarella, non so se l'avete letta. Mi sono andato a vedere quanto guadagna il barbiere di Mattarella. 170 mila euro all'anno. 170 mila euro all'anno. Ovvio che do dell'eroe a chiunque io. Se mi date 100, ma magari nel caso mio no. L'ordi. L'ordi. Ma mi scusi, ma le sembra normale una cosa del genere? La riduzione dei costi si fa in un altro modo. Si riducono questi privilegi che sono assurdi, arcaici. Sono dei tempi di giorni, ma anche prima. Ma te che tempi che degli altri. Non ho tante cose a chiedere per questo motivo. Poi volevo chiedere, inizio da lei Bano questa volta. Negli ultimi governi il Presidente del Consiglio Italiano è stato un tecnico. E vi faccio questa domanda. La politica ha bisogno dei tecnici. È talmente così scarsa la politica che per governare l'Italia ha bisogno di tecnici, nonostante che i politici sono stati eletti dal popolo. Questo dà un segno di debolezza forte della politica. L'alternativa è la dittatura. Quando la politica fallisce, ma noi l'abbiamo sempre vista nella storia. Ma noi abbiamo sempre bisogno di loro per salvare la baracca. Se la politica fallisce in quel momento là viene messo un tecnico. Se dopo mi dice cosa ne penso, che è il fallimento della politica, che è il fallimento di una classe politica, che non è competente, che non ha visione, che non ha idee, che non ha ideali e che non ha prospettiva, che vive la quotidianità, che vive per il proprio stipendio, che è autoreferenziale, che si autosolve, che le ha tutte. Allora, al punto là, purtroppo è meglio un tecnico, perché non c'è l'alternativa. L'alternativa sarebbe quello che gli piace a Bruno. Non c'è l'alternativa, perché non c'è accordo fra le varie parti politiche che governano. Se ci fosse, metto uno mio, metto uno tuo. Allora, noi siamo dipendenti, sostanzialmente. Noi siamo dipendenti, è inutile che pensiamo di essere liberi. Noi siamo dipendenti in questo momento dall'Europa, perché non battiamo moneta, e quindi se noi vogliamo i soldi per pagare gli stipendi, per pagare le bollette, per pagare tutto quanto, dobbiamo attenerci a delle direttive europee. Quando non siamo in grado di generare delle risposte e di generare un'azione politica, a quel punto là ci arriva il commissario, nel caso specifico Draghi, che piace tanto all'Unione Europea, che io stimo, che ci dà credibilità, eccetera, che però a quel punto là nessuno può dire niente. Nel senso che Draghi comanda, gli va bene l'Europa, e il Parlamento sostanzialmente viene quasi esauterato dalla sua... Quindi è una sconfitta alla politica? Ma certo, ma è una sconfitta alla politica. Io continuo a dirlo, purtroppo, perché chi fa le liste per andare là sono liste di partito, continuo a dirlo, stava qua, invece bisognerebbe mandare gente che ha già fatto amministrazione, che sa che cos'è una determina, che sa che cos'è una delibera, che sa cosa vuol dire, che sa l'esigenza dei sindaci, che sa che cos'è una provincia, un altro errore drammatico... Ma è un sistema molto più complesso... No, ma è un altro sistema, là è stato un altro errore madornale, che è stato un attacco all'ente locale, che è stato quello di togliere le province. Doveva togliere le regioni. Bravissimo, cioè era meglio, perché la provincia è l'ente perfetto, che sta tra il cittadino e il comune. E potremmo aprire un dibattito. No, ma è così, ma allora vedi, noi stiamo discutendo su errori, di errori, di errori, hai capito? E purtroppo non stiamo dando risposte. Potete aprire il dibattito? No, ma la provincia, io l'ho fatto, l'ho fatto, è stata per me una delle esperienze più formative, più importanti, più belle, e anche magari per certi versi più frustranti. Speravo che col taglio dei parlamentari, vuoi per salvare le poltrone, eccetera, quello di ripristinare le province, così trovavo una collocazione in qualcuno che magari non aveva più posto a Roma. Purtroppo così non è. Certo. Vado in pubblicità, per il riparto da Raffaele Zanon, per quanto riguarda i tecnici e se la politica ha perso ovviamente sotto questo profilo. A tra poco.